Il piano sociale regionale, il Movimento 5 Stelle parla di un pasticcio di documento poco chiaro, soprattutto per quanto riguarda alcuni comuni dell'area bestina. Consigliere Pettinari, perché? Sì, un grande pasticcio che sta provocando cosa? La limitazione dell'erogazione dei servizi sociali all'utenza svantaggiata. Quindi vorrà dire che chi ha necessità di assistenza domiciliare, assistenza agli anziani, trasporto disabili dei comuni di Penne e Colle Corvino potranno molto probabilmente vedere nei propri mesi limitato questo servizio. È un dramma, ci siamo subito attivati, abbiamo presentato un'interrogazione all'assessore regionale Sclocco e D'Alfonso per chiedere eventualmente il commissariamento dell'ambito distrettuale Vestino, perché non sta operando come dovrebbe. Ho scoperto una situazione drammatica in cui l'ambito sociale si stava ricostituendo stralciando i comuni di Penne e Colle Corvino, quindi lasciando di fatto esclusi dall'ambito sociale questi due comuni che, ripeto, insieme compongono la gran parte degli abitanti del territorio vestino. Quindi quello che noi chiediamo, come ha annunciato anche Domenico Pettinari, è che la Regione, seguendo la legge, quindi il decreto legislativo 267 del 2000 e soprattutto il piano sanitario e sociale regionali che loro stessi hanno scritto, applichi il suo potere sostitutivo e quindi non lasci che dei comuni vengano esclusi da quest'ambito sociale, ma devono commissariare l'area e soprattutto devono vedere la situazione e quello che sta succedendo. Cosa è, concludo, gravissima, è che fino ad oggi a tutte le sollecitazioni fatte dal Segretario Generale e dal Comune di Penne l'assessore Sclocco non ha mai risposto.